Nuova udienza decisamente attesa, quella celebrata in corte da Sisia Cosenza nell'ambito del processo seguito alla morte di Donato Bergamini, avvenuto a Rossello Capuspudico nel novembre del 1989. Nell'udienza odierna è stato sentito il professor Francesco Maria Avato, ovvero quello il quale aveva eseguito l'autopsia nel gennaio del 1990. Avato ha sottolineato alcuni particolari legati al suo lavoro, ovvero gli scarsi elementi in suo possesso all'epoca, non gli sarebbe stato fornito il verbale redatto alle forze dell'ordine, né alcun dettaglio sugli indumenti, né c'è stato alcun confronto con la magistratura. Nel corso dell'udienza sono emerse discrepanze rispetto ai risultati dell'autopsia eseguita successivamente nel 2017, legate anche alle diverse strumentazioni e alle tecnologie utilizzate che in circa 30 anni, come ovvio che sia, sono cambiate. Avato inoltre ha sottolineato i suoi dubbi sull'ormai famosa glicoforina e ha dichiarato che non ci sarebbe prova del soffocamento non avendo riscontrato nell'autopsia del 1990 segni sul collo del calciatore. Lo stesso Avato ha sottolineato poi altri aspetti particolari dalle sue risultanze, infatti il corpo sarebbe stato disteso al suolo nel momento in cui sarebbe stato sormontato al camion. Da alcune foto poi, secondo Avato, sembra che il corpo del giocatore sia stato a contatto con il terreno senza vestiti. Diverse quindi le discrepanze fra i risultati dell'udotopsia effettuate a 27 anni di distanza, motivo per cui il PM Primicerio ha chiesto un confronto fra il professore Avato e che ha effettuato poi la successiva l'autopsia nel 2017 con i rispettivi periti già sentiti nel corso del processo, tutti presenti in aula. La richiesta è stata accolta dalla Corte. Dal confronto tuttavia non sono emerse particolari novità. Avato ha confermato di non individuarne l'asfissia, la causa della morte dovuta invece all'emorragia seguita al sormontamento. Gli esperti che hanno eseguito l'autopsia nel 2017 con altri strumenti ritengono la morte invece dovuta all'asfissia meccanica attraverso uno strumento soft, ovvero la tesi del soffocamento.